Salve a tutti ragazzi, sono Pliftin Nova, benvenuti in questa sessione numero 3 di Vegoran Story. Nella puntata precedente sconfissi un minotauro, ho incontrato Sidney e a modico prezzo di ricordi che non volevo ricordare, sto parlando a nome di Ashley, Ashley ha imparato finalmente delle chain di attacco di difesa. Avete visto sclerare male contro un'armatura per aumentare l'affinità della Fandango, e poi ho sconfitto un'armatura gigante, l'ultimo boss che avevo affrontato nel gameplay precedente. Adesso ho aperto uno scrigno dove c'è un ottimo artiglio rugginoso che me lo tengo da parte per ora, io ho incastonato intanto la Braveheart, poi mi servirà più là. Mi servirà per dei mostri che assomigliano molto a delle lucertole, in quanto l'affinità dell'artiglio rugginoso è molto più affine alle bestie che non ai umani. Allora, intanto adesso sto gironzolando, non tanto per diminuire la barra risk perché è zero, ma per cercare dei pannelli che mi possano curare, che mi possano servire poi in futuro. Non si sa mai che voglio tornare indietro. Bene, qua non è, sono qui, infatti c'è un pannello curativo, e poi per i status malefici c'è un pannello risanatore che deve essere infatti qui. Ora, voglio depositare delle armi, in quanto ci sono alcuni mostri che vi possono droppare delle armi, se ho le scorte piene, se voi anche dovesse mai giocare a sto gioco, e avrete le scorte piene, è un peccato, è meglio depositare le cose prima che non dropparle, poi gettarle via. Allora, adesso, Tovarish la deposito, lo settimo paradiso lo deposito perché tanto io le balestro e non le userò mai, lo stocco, si lo deposito, poi lo scudo, i scudi li tengo, perché qualche volta capita che è l'interscambio, poi vado avanti, qua c'è il punto di salvataggio, se si vuole salvare si salva, se no ciao, vado avanti, ok, allora, ci sono sempre i soliti mostri qua, c'è il solito pipistrello rompipalle, poi c'è sto lupo, che dopo ci potrà sorprendere con il suo alito fetido di fuoco, tant'è vero che dovrò imparare poi una, assolutamente una chain di difesa che si chiama Fireproof, però prima vorrei imparare una chain di attacco che si chiama Instill, che permette a tutte le armi di avere il maggior attacco possibile, e come, lo scoprirete più là, quando io poi ne parlerò, adesso non è il casual, perché non siamo dentro un'officina per quello, allora, qua c'è il solito scheletro rompipalle, i cui punti deboli sono, il braccio o il capo, però, notate che comunque la mia barra rischia è a 18-20, quindi, questo ve li para subito, me li para subito, se ti attacchi, cosa sto dicendo? devo tenere, io un boh, qualche volta mi sorprendo, cioè dico cose nonsense, vabbè, vado avanti, qua c'è una trappola, e vabbè, qua diminuisco la barra risk, e poi vado avanti, anche perché non voglio sprecare tutti gli oggetti, del vero, per ripristinare questa benedettissima barra, ammazza, vabbè, va, ok, adesso sconfico pure quest'altro, benissimo, che palle, fatti smantellare, c'è il cranio fracassato, ecco, sei morto, oh, è la mia occasione per brillare, allora, io avevo detto, fireproof, oppure instill, e io preferisco, in questo momento, avere instill, anche game magic, non sarebbe male, però, più là forse, instill, adesso me la equipaggio come abilità chain, gli attacco, mi tengo anche game life, interscambiamo tempercoring instill, heavy shot sempre, comunque, ok, anzi, ve ne parlo adesso, di questa abilità instill, a modico prezzo, di un punto, in più, della barra risk, noi, io, posso aumentare, una barra particolare, dell'arma, una barra che si chiama, pp, non pp, pp, ovvero, phantom pain, ecco, il nome di background story, il primo nome di background story, doveva essere, appunto, phantom pain, però, torniamo a noi, allora, i phantom pain, ci permettono di, eh, avere l'arma, con l'attacco più alto, poi c'è un'altra arma, che noi, dobbiamo tenere in considerazione, la barra dp, i damage point, qua, più la barra dp, diminuisce, e più l'attacco si dimezzerà, quindi bisogna tenere, il più alto possibile, il punteggio di dp, e pp, è semplice, la cosa, semplice e concisa, allora, andiamo avanti, sconfigo sempre, sto, sto scheletro, che però, mi sta dando, filo da torcere, anche se, comunque, i bracci, le braccia, volevo dire, i bracci, le braccia, comunque, sono, compromesse, me le pa, mi para gli attacchi, quindi, adesso, io gli casto una degenerate, così, gli faccio il culo, che non ha, quindi, diciamo, l'osso sacro, ecco, gli faccio l'osso sacro, così, sì, ma sei bastardo, però, tua mamma era una buona donna, ok, morto, adesso, fatemi pensare, sì, devo impilare, prendere la, la, la cassa, e metterla qua, però, salendo, riesco a prendere la cassa, beh, per forza, sì, però, io mi complico troppo la vita, perché, perché le sto spostando, ah, Gesù Cristo, sì, beh, no, devo metterla sopra, perché mi complico la vita, cos'è, sto gioco, poi, mi permette di fare le peggio cose, le peggio porcate, tipo questa, no, questa è niente, ragazzi, questa è niente, ah, finalmente, ci sono riuscita, che bello, ok, adesso, apro, sta benedettissima, cassa, prendiamo quello che c'è dentro, finalmente, ho un qualcosa, che mi interessa, veramente, la, Iocus, questa gemma, la dovrò, incastonare, indipendentemente, o arma, o scudo, e mi permette di, o attaccare, con più affinità, i, i, i non morti, oppure, parare i loro attacchi, a tutti i recolpi, non tanto parare, a tutti i recolpi, ah, le ara, io adesso, equipaggio, quello che, mi interessa, la fasciatura, o guante in pelle, no, mi tengo la fasciatura, tanto per un punto in più, allora, come ho detto, incastrono, sullo scudo piccolo, assolutamente, la mia Iocus, vedete che roba, c'è 15 di non morti, vai, ha giudicato, adesso equipaggio, ce l'avevo già equipaggiato, lo scudo piccolo, quindi, ah, che belli i rumori, di sottofondo, che belli gli aerei, no, per curiosità, se lo volete sapere, c'ho gli aerei, che mi passano, vicino, casa mia, a 100 metri, da terra, quindi a momenti, vedo dentro, a Ioblò, le persioncine, e faccio ciacia con la panina, il tutto per dirvi, che qua ci sono i soliti mostri, e tanto, qua si sconfiggono, sempre, è la stessa identica, roba, per ora, per ora, per ora, e, sì, dai, sei morto, sì, bene, bene, allora, qua, la porta è arrugginita, ci vorrebbe un terremoto, per aprirla, prima o poi arriva, tranquillo, che arriva, adesso, qua, ci sarà, una rottura, di scatole, quindi, io, faccio, Dooling Impact, poi, tengo il resto, perché, adesso, vedrete, che ci sarà, un mostro, che è un fantasma, che è meglio, che gli mettiamo mutismo, perché, se no, vi casta delle magie, rompi scatole, a parte, che sparisce sempre, sto infame, maledetto, e poi, abbiamo un minuto, di tempo, per sconfiggerlo, però, se noi, azioniamo, appunto, questo, l'attacco, il tempo si ferma, quindi, non, vedete, il solito, shock, se non riuscite a pararlo, sono, cazzi amari, vedete, poi, soprattutto, all'inizio, ok, allora, adesso, il capo, le braccia, io, ho problemi di fiducia, e colpisco il busto, anche perché, comunque, ah, sì, silenzio, però, che cosa fa, sto infame, sto pango, mi diminuisce, ah, no, ok, no, stavo scherzando, adesso, il casto degenerate, perché è un infame, schifoso, e deve morire subito, allora, no, cosa ho fatto, non possiamo dare più di due status negativi, perché mi annulla il primo, porca miseria, adesso devo fare la chain, mannaggia, alla pupazza, però è morto, sconfitta del fantasma, l'avevo capito, grazie, ho un ottimo laser dei regi, che adesso userò, ah, finalmente terremoto, tempismo, perfetto, e, apriamo, fatica di efesto, questa è una spada a due mani, non le uso, cioè, l'unica, l'unica arma che userò in questo gioco, per comodità, poi magari sbaglierò, però è la lancia, allora, uso l'elisir, HP P4 benissimo, va bene, poi, elisir dei regi, uso, uso, elisir dei regi, stavo ordinando, il menu, perché, l'inventario, perché, quando vedo tutte le cose in disordine, impazzisco, comunque, forza P3, benissimo, allora, anche se, comunque, un attacco, 118, non è male, però, mi tengo la fandango, perché ho la barra di P, e pipì piena, soprattutto la pipì, non la pipì, pipì, i pipì, ecco, la barra pipì, comunque, io vi avevo detto, anche nell'introduzione, una speculazione, che volevo dire, su The Phantom Pain, allora, io ho letto da qualche parte, aspettate, prima, non ancora, però, c'è un terremoto, ti si sblocca la porta, e non rompi le palle, e prosegui, comunque, vi stavo dicendo, io avevo letto da qualche parte, che, il, Hideo Kojima, e, Yasumi Matsuno, comunque, sono in buoni rapporti, se non amici, quindi, ho pensato, e se magari, ha chiesto, Kojima, di, usare il suo, il vecchio, il vecchio nome di The Grand Story, visto che sono in buoni rapporti, cioè, della serie, ehi, senti, mi, mi faresti un favore, posso prendere il tuo, il vecchio titolo di The Grand Story, così, l'ho in titolo The Phantom Pain, Metal Gear Solid, l'altro, sì, va bene, io mi faccio certi film mentali, che non mi dico, no, perché, devo, 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 assolutamente, cambiare le chain, metto Temper o Instill? No, metto Temper, perché aggiunge il 40% dei danni inflitti, anche se la risk, aumenta di 2, e in life, me lo tengo per ora, comunque, ritornando a noi, io mi faccio certi film, che non vi dico, che palle sti aerei, però, è brutto abitare vicino ad un aeroporto, bene, 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 questi, hanno delle armi pesanti, mi possono fare veramente male, quindi, è meglio che mi tengo, gay life, piuttosto che, non fare Temper in Steel, infatti, mi è servito qualcosa, bene, adesso, dove devo andare, devo andare di là, sì, devo prendere una cassa, o forse due, e poi scavalcare, ma penso che forse una, mi basti, e se me ne basta una, la domanda è, perché proprio quella cassa, se potevo benissimo, prendere l'altra, senza problemi, perché vi volevo far vedere, che alcune casse, possono essere trascinate, non è vero, è una spiegazione paraculo, ok, dai, scavalchiamo che è meglio, che adesso c'è una roba, una moria assurda, ecco, la moria assurda, quel fantasmino, che avete visto in basso lì, ah, maledetto, potevo attaccarlo subito, invece, allora, prima sconfigo, sto benedettissimo, pipistrello, poi, ci sarà di sicuro, un lupo, maledetto, fireball, porca miseria, lo dovevo apprendere prima, però, volevo fare in still, mi volevo togliere, questo peso di dosso, maledetto, ti odio, respiro, eccolo là, vedete, respiro di fuoco, vedete, maledetto, adesso ti faccio morire male, oh, bene, due mostri, che mi possono, sputtare fuoco, maledetti bastardi, non è tanto il problema il lupo, è tanto il fantasma, ma non perché faccia degli danni ingenti, ma perché, scatta, e io lo odio, maledetto, e devo fare attenzione, adesso anche gli MP, fireball, sì, sì, se io ovviamente, non seguo il ritmo, e mi faccio colpire, allora, rolling impact, vediamo se funziona anche sul lupo, baldrachina, muori, baldrachina, adesso, chi comanda, sto stronzo, quindi, non era un attacco magico, era un attacco di, maledetto, adesso, ti faccio il culo, fantasma, adesso io, aprendo fireproof, seppre se lo paro, e ti faccio il culo, poi, poi, anche, le, 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 sì, le chain, che riflettono, sia l'attacco, che la, che la magia, quindi, potrei anche usare quelli, no, ma, sei un grandissimo, infame, ti odio, maledettissimo, io, odio i fantasmi, soprattutto, quando non ho le armi adatte, e quando non ho le armi adatte, io, cristono, come la, non so cosa, io mi sto trattenendo tantissimo, il casto degenerate, sperando che, ah no, perché autoling impact, cosa sto facendo, guarda che infame, schifoso, schifoso, è meglio che mi curo, che magari questo può anche castarmi silenzio, e poi sono nei guai, 79, I keep you know what I mean, sto sclerando, eccolo lì, schifoso, io ti aspetto, ma l'hai detto, eppure la barra risk, non è chissà che, chissà che alta, però se fa mind blast, vuol dire che ha, gli mp bassi, io, io ti aspetto, ti aspetto al varco, brutta baldracca, forza giù, maledetto, schifoso, io ti aspetto, schifoso, mind blast, vabbè, meglio mind blast, che fireproof, no, schifoso, perché sparisci, e, mi, no, ma qua è uno sclero, adesso non mi casti più niente, baldracca, invece no, mind blast, non è un attacco magico, schifo, ma no, voglio un'arma, che sia fine, fantasmi, così, mi faccia il culo, e ti ho sconfitto, brutta baldracca, ti odio, ok, vado a prendere, no, cosa faccio, sto facendo, allora, questa cassa, cosa sto facendo, strascino quel cubo, adesso non ce la faccio più, e vado adesso ad aprire uno scrigno, che è lì, e come faccio ad aprirlo, giustamente, devo trascinare quella cassa, da questa parte, non devo salire sulla cassa, devo trascinarla, mi ha debilitato, mi ha debilitato, quello scontro, quel tuo fantasma, e adesso, irrimediabilmente, c'ho un'arma, Soul Kiss, la mia bellissima Soul Kiss, che ha tantissima affinità, per i fantasmi, così posso prendere, e fai il culo, con questo piccolo pugnale, carino e coccoso, maledetto, che è pure in argento, quindi molto stiloso, mi ha debilitato, quello scontro, mamma mia, io ho i fantasmi di odio, schifosi, infami, scappano sempre, vi ho sconfitti tutti però, vi ho fatto il culo eh, adesso chi è il capo qui? Io! Ciao Edeo! Io, cercavo di essere seria, ma quando vedo questi scontri qua, io sclero male, mi sto trattenendo anche, perché se no cadiamo nel ridicolo, e io non voglio cadere nel ridicolo, adesso andiamo dall'altra parte, vado dall'altra parte, perché parlo col noi? Ma con fossina nobile, un altro enigma da risolvere, sì, a quanto pare sì, devo andare dall'altra parte, quindi dovrò usare tutte quelle casse, per andare dall'altra parte, giustamente, proviamo, no, non è quella musichetta, è Tetris, perché sto canticchianto un puzzle bubble, ma porca, ehi, ciao, forse sto facendo una cagata, sì, sto facendo una cagata colossale, sì, sì, sto facendo una cagata colossale, ma non vi preoccupate, torno indietro, resetto tutto, e ciao, che schifo la vita, schifo, ma do, torno indietro adesso, schifo, io rio tutti, adesso torno indietro, piangendo come una femminiccia, fan cuore, mi è armata di fandango, non so per quale motivo, vado, allora, adesso che ci ho pensato, devo fare così, devo fare in modo che, io devo scavalcare, quel posto, allora, metto una cassa qua, poi, ok, poi metto, una cassa là sopra, ok, non vi preoccupate, tanto, non si rompono con le casce, se volevate sovrapporre anche il blocco di pietra sopra, intanto non si rompeva, però in questo caso non serviva tutto ciò, quindi, adesso io prendo una cassa, la metto qui finalmente, poi prendo l'altra, mi butto, perché la vita va schifo, e poi la sovrappongo, e poi vado avanti, si, abbiamo questi rompicapi, che poi non sono rompicapi, sono, rompicapi più complicato la vita, ragazzi, questo non è niente, il fireproof lo tolgo, no, lo tengo, però, metto quadrato, perché non uso mai il quadrato, c'ho un handicap, io ho l'handicap del quadrato, non so voi, ma dopo anni e anni, che gioco alla playstation, ho un handicap, ovvero, non saper distinguere il cerchio dal quadrato, e quando mi dicono premi quadrato, vado in crisi, non capisco, non succede col triangolo con la x, però col quadrato, e con il cerchio, sì, non lo so perché, non lo so, non so voi, ma a me capita questo, ok, dai, muori, no, eri già morto, però muori un'altra volta, vado avanti, bene, qua c'è un punto di salvataggio, il che è un buon segno, non credo proprio, o forse sì, forse sì, perché vicino, c'è una, oh, brutta caretina, io ti ammazzo, vicino c'è un'officina, per prima voglio sconfiggere, sti infami schifosi, vi odio, schifo, ancora vivo sei, dove occupaggiare, forse la soul kiss, allora, qua c'è una porta, che bisogna sbloccare, con un sigillo, che si chiama giacinto, ma adesso, non ce l'ho, però, io voglio andare, prima, a sinistra, e, qua, c'è un'ottima officina, dove posso finalmente, svizzarrirmi, e fare le peggio, porcate, che bello, io vi faccio vedere adesso, qualche dimostrazione, qualche cosa random, però, proprio in là, taglierò certi pezzi, perché io perdo le ore, a plasmare roba, e fare un gameplay, solo di plasmare roba, risulterebbe proprio noioso, allora, ci sono, delle possibilità, c'è anche la possibilità, di riparare, quindi ripristinare, le barre di p, di ogni arma, in questo caso, ci sono, allora, le officine, ce ne sono diverse, in questo gioco, ogni officina, poi, si può plasmare, un, un materiale diverso, in questo caso, bronzo, e cuoio, poi, c'è la possibilità, di assemblare, le lame, con i manici, in modo tale, da incastonare pigemme, oppure, fondere, le varie armi, che si sono già, acquisite, diciamo, non acquistate, perché non esistono, i negozi, allora, quello che mi, preme, è, aereo, parte da aereo, devo equipaggiarmi, lo scudo romano, che ho, ho fuso, praticamente, quegli due scudi, che avevo, lo scudo, lo scudo piccolo, per appunto, avere questo scudo, e che, mi aiuta, anche molto, nella difesa, mentre, le altre, mi sa che, le metterò, poi, da parte, perché, non le userò, o le userò, per fondere, altri oggetti, bom, io penso, di aver finito, e, adesso, vi lascio, riparando il tutto, e ci vediamo, alla prossima, quindi fate i buoni, mi raccomando, e vi saluto, e anche Ashley, vi saluta, ciao, ciao,